Wow, bell'impatto. Ci hai ripreso mentre abbiamo fatto quella cosa. Mentre abbiamo un infarto, sì, l'abbè ripreso? Allora, resistenti cari, siamo nel Tenac Studio, Resi Studio Mobile, Into, Tenac, la televisione. La telecaster. Ecco, qua ci attenziamo di suddetta guida. Senti se tolgo, questo è puro. Vabbè questo è abbrattito, non c'è niente. Senti lo metto, sembra ambra quando cantava nelle canzoni, tappertengo e se ci tengo e se ci tiene, no? Anche in una puntata dei Simpsons sta il Magic Mix, sta un gruppo che canta. Quando loro cantano per la marina. Ah. Singola persona, carisma e censura, preferisco le aperture, pensa quando si è ampliato il significato delle parole con aria, anche amate in tutti i modi, per poterle snaturare. Mi ha fatto espressione unica di una certa parte sociale, in cento modi diversi, ne potrai riferire tanto l'opinione che conta, è quella personale. reso coso della giornata, a fare prima posizione, a seguire Time Time, un'anticioia per tutti i modi diversi, ne potrai riferire tanto l'opinione che conta, è quella personale, reso coso della giornata. reso coso della giornata, a fare prima posizione, a seguire Time Time, un'anticioia per tutti i modi diversi, ne potrai riferire tanto il significato delle parole con aria, anche amate in tutti i modi diversi. Va bene, te lo faccio sentire senza, te lo faccio sentire senza, te lo faccio sentire senza, pure io sono curioso. Vediamo come sembra, vediamo come sembra. Wow, bell'impatto. C'hai ripreso mentre abbiamo fatto quella cosa. Mentre abbiamo fatto un infarto si, a me l'hai ripreso? Terremoto in diretta, epic fail. No, però ci avevano sparato, mi era piccato meno la paura. Raga, l'acqua! Allora Fede, mi devi regolare questo, al volume che tu suoneresti. Suona. No, non è quello, puoi usare pure le trombe aerospaziali, soltanto che io regolo il gain per quello, il gain sembra niente, ma... Allora... E' eccessivo i bassi. Li abbassati, ho abbassato i bassi. Li hai abbassati? Quante la pronunifica li hai abbassati? Si, è proprio scuro il suono di questo ampio. Eh, ma da un'altezza poterosa che stavano. Si. La bocca secca, vai suona, suona. Stavano già così. Ok, vai vai, fai strumento di bassi. Suona strumento. Dimmi figliolo. Passami poco poco il tutto. Il tutto? Si, perché mi stanno scoppiando le orecchie. E te lo regoliti qua. Allora, lo regolo. Si, si. No, te lo regolerai tu. Capito? Sentendo, aspetta. Quindi io faccio come registrare e poi ti fai il generale. Fermo. Fermo. Capito. Esatto? No, no… No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no… No, 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 no… Sono fissuto. Ho sbagliato, eh, Henry? Avello, eh? Bello. Tutto ciò che hai fatto, risciarfe a Cappella. Allora, a proposito, lasciar famiglia sparita. Ah, quella mi serve poi. Allora, stai davanti, senza far rumore? Yeah. Allora, stai davanti. Grazie per la visione Grazie per la visione No, devo rifarla Fa rifarla, dai Secondo me è venuto lo schiribiz di seguirlo in qualche maniera ancora più profonda con qualche anticipo e qualche cosa Damiano? Vero Damiano? Mi sembra di capire che l'altro giorno quando l'hai sentita da Giuseppe ti è sembrato di leggere nei tuoi occhi la scintilla di qualche idea Devo registrare ancora? No, te ne puoi andare No, no, non me ne voglio andare, voglio fare una musica di nozze Sei tu no, qua che lo stai mettendo sul batter o sbaglio? Non lo avrei studiato forse in storia della musica Ah, blocchi, ok? I Brahms invece i blocchi non soltanto li fonde un pochino e li sovrappone in maniera polifonicamente e coralmente impetuosa e molto più mista rispetto a ciò che avveniva in Beethoven, più sovrapposta Ma anche oltrepassava il limite della battuta molte volte, per questo facevo questo paragone in quella parte Non so se è uscito il mio di giubilo Ok, 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 basta, basta Sei pronto E lo rivolgeremo verso la parete Come apertura secondo me va bene, così, come apertura all'aria Aspetta, aspetta, stai Una mano? Aspetta, va vai, va vai Aspetta Il mic l'ho appoggiato Il mic l'ho appoggiato In tutto questo la regalda è spento? Sì, sì, adesso lo spento, lo faccio proprio dopo Allora la scheda audio è pronta ragazzi Federico sta ripassando la parte E Damiano la batteria No, non è quella Wow Bell'impatto Ci hai ripreso mentre abbiamo fatto quella cosa Mentre abbiamo fatto un infarto, sì A me l'hai ripreso? A me l'hai ripreso? C'è ripreso mentre abbiamo fatto quella cosa Mentre abbiamo fatto un infarto, sì A me l'hai ripreso? Di video